Buon venerdì sera 13 gennaio a voi tutti, eccoci pronti per un nuovo video, un'altra nuova classifica integrale nel 90, ieri sera per la nona volta. Il 90 è stato centrato a ruota sulla ruota di Cagliari, quindi cosa vi sta a indicare? Che dietro a questa classifica i consigli, gli studi, quindi le attenzioni che vengono fatte per questa particolare classifica vengono dallo studio con l'ambata contata e dall'8++, ormai classifica stracopiatissima, voi pensate che alla fine di ogni video con il 90 vengono in 24-26 ore visualizzate 13.000, 12-13.000 volte, quindi pensate voi quanti scontrini ancora da farvi vedere, ma non li farò vedere tutti perché se no non la finiamo più. Parleremo ancora una volta di vostri esiti con l'ambata contata, i vostri errori da non fare, ma prima di partire chi è nuovo consiglio l'iscrizione al canale, ovviamente l'iscrizione è gratuita, mi raccomando, attivazione dalla campanellina perché facendo così vedrete poi la notifica sul cellulare che vi arriverà in tempo per vedere il video, mi raccomando. Allora passiamo subito ai vostri esiti, ma prima vi devo far vedere un'altra cosa. 10 di Genova, 5 e 10, quindi fate la conta da Genova, qualsiasi numero, mi ha interessa il 10 per farvi vedere quanti fra l'altro avete vinto questo ambetto perché a me fa piacere vedere queste cose. Allora 5 e 10, quindi 10 Milano, Napoli o 1, Milano, Napoli o 1 e 10, Ambo e Ambetto, 1 e 11, ambettissimo su Milano al primo colpo e poi guardate qua, seguite il 59 di Milano, vi piace il 59 ma seguitevelo in un'altra ruota, guardate 55, 56, 57, 58, 59, 59 o 55 Genova, Palermo o 55, 59 Ambo e Ambetto, Genova, Palermo, primo colpo 59. Ma ragazzi, allora io vi ho già detto tutto, continuerò a dirvelo, questa è la tecnica del momento, ovvero non ce n'è per nessuno, questa tecnica vi permetterà di andare a vincere la ruota. Passiamo ai vostri esiti, 12 di Bari e Venezia che poi è arrivato mi sembra il 12, sì, ma 12 anche e no, forse c'è poi anche un 31 e 23, una cosa del genere, vabbè, comunque questa lombata ha vinta, eccolo qua il famoso Milano-Napoli, 1 e 10, Ambo e Ambetto, estratto Ambo e Ambetto, più di così ragazzi, cosa volete? E poi il 90 su Cagliari, andiamo avanti, un altro bel Ambo in quartina, 42-90, il famoso 42-90 che avete vinto in tanti, vi siete fatti la ricerchiera, sì, me lo dava su Cagliari, sì, attenzione, qua c'è solo Cagliari, poi andava giocata anche la ruota di Torino, attenzione, non fate gli errori, non li fate, mi raccomando, se no perdete delle belle occasioni, ve lo dico, che poi le andremo a vedere. 42-90 a Cagliari, Ambo in quartina, andiamo avanti. Allora, questi sono esiti particolari, guardate, 20 euro di Ambo, scusate, 20 euro di Ambata su Cagliari, sono 100 euro circa di vincita, ma poi c'è il 28-82 come avete giocato di nuovo gli estratti, guardate qua, il 90 a Cagliari, il 28 di Torino, il 28 di Cagliari, che poi qua, Cagliari-Torino, sì, 28 a Torino, che è uscito, e poi di nuovo il 90 a Cagliari, qua l'avete fatto in tante sezioni, il 28 di Cagliari-Torino, che è uscito a Torino, vi ripeto, e poi 1-10-90 a Milano, qua c'è l'Ambetto, perché è uscito l'1 e l'11, di nuovo, guardate quanti Ambi con l'1 e l'10, quindi con l'Ambetto o con l'Estatto, qua peccato che non hai messo troppo sull'Estatto, potevi mettere davvero un bel 10 sull'Ambetto, ti portavi via quasi 600 euro di vincita, nonno Pino colpisce ancora, lui ormai, 8 a Milano, 4 a Napoli, nonno Pino, ciao, sei un grande, guarda, allora 90 a Cagliari, poi 90 a Cagliari, ce ne sono tantissimo, il 28, poi l'11, 23, 32, eccolo qua di Bari, adesso non vi faccio vedere l'Ambata contata, ma lui ha preso il 23 secco col 32, lui ha fatto il 23, 32 che erano due ambate, ha aggiunto l'11 per conto suo, ma c'è anche il 12, quindi guardate, doppio Ambetto, perché qua c'è il 23, fa col 32, il 23 con l'11, su Bari è uscito 12, 31, 23, quindi doppio Ambetto, bellissimo, andiamo avanti, tutti i vostri esiti, eccolo qua, il 42,90, questo ve lo devo far vedere, questo ve lo devo far vedere, 42,90, ma dove arrivava questo 42 per centrare l'Ambro, che l'avete vinto in tanti questo 42,90, e vediamo dove arrivava, addirittura un colpo solo, guardate qua, allora il 42 di Genova, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ruota nazionale, no, 40, 41, 42, Cagliari e Torino, e guardate qua, se ci fate caso, quando vi dico che prima arriva il vertibile, vedete, prima c'è il vertibile, e poi si gira, c'è il 24, quindi quando c'è un vostro numero di interesse, quando vedete un vostro vertibile già presente in una ruota, quindi vuol dire che in automatico poi arriverà il suo vertibile, guardate, il 42 di Genova arriva su Cagliari, primo colpo il 42 arriva su Cagliari con il 90, c'è anche un 5,90, insomma avete fatto 32,90, 19,90, avete fatto tantissimi ambi, adesso tutti i faiveli vedere, ragazzi diventa lunga, allora, uh bello questo esito, che fra l'altro mi hai anche detto che ti sei mangiato veramente qualcos'altro, per non dire cosa, perché guardate qua ragazzi, tutte ambate contate, c'era anche il 18, non gli è venuto in mente di mettere il 18, guardate che botta che prendeva, allora, 8, 28,90, 1, 8, 28,90, vediamo un po', c'era, ecco il 28, ma lui non ha messo, mi avevi detto il 18, il 18, guardate da dove arrivava, guardate da dove arrivava il 18, allora dal 31 dicembre, quindi il 18 c'è su Napoli, quindi 5,10, 15, 16, 17, 18, arriva a Torino, poi c'è il 28,82 della previsione che avevo dato, quindi 18, 28 e 8, nel frattempo guardate bene, quindi questo 18 arriva su Torino, vedete che non arriva ancora su Torino, quindi poi, poi c'è l'8 di Bari che scende a Cagliari, poi ci andremo a vederlo per noi il 90, invece per quanto riguarda 9, attenzione, e quindi attenzione a questi passaggi, nel frattempo c'è l'8 di Bari che va su Cagliari e Torino, guardate qua, ma ancora il 18 e l'8 non ci sono insieme, poi guardate qua, arriva un primo 18, ma insiste lui, come stiamo facendo con il 28,82, 1,10, sì, per quello vi dico che i numeri si ripetono, guardate cosa arriva qui, ma c'era anche l'88 se non sbaglio Torino, me l'avete detto in tanti sul cellulare, quindi arriva il 18, arriva l'8, arriva il 28 che ho dato con l'82, guardate qua cosa c'è, c'è un terno, peccato che non è giunto il 18, me l'avevi detto, me l'avevi detto chiaro e tondo, peccato che non ho messo il 18 perché c'è veramente un terno, andiamo avanti, poi 90 a Cagli, 90, poi il 28 di Torino, vedete che le ambate comunque le giocate lo stesso, poi 10, 12 e 90 su Milano, 10, 12 e 90 su Milano, ambetto, bravissimi, qua c'è una serie di giocate, anche qui ambate contate, vai, grazie, grazie che colpo, guardate ragazzi siete tantissimi, 90, nazionale che poi quello è un vostro 90, 28 e 82 di nuovo, il 28 a Torino, 28 a Torino, 90, 90, 28 a Torino, 90, 90, vediamo se c'è ancora qualche ambatta contata, poi il 16, 31 e il 27 un'altra vincita fatta da voi con l'ambatta contata, il 28 di Torino, 28 di Torino, 90 di Cagliari, 90 di Torino, 90, 90 di Cagliari, guardate quante ce n'è, 28 di Torino, 90 di Cagliari, 90 di Cagliari, 28 di Torino, insomma ragazzi, poi 12 di Milano, Napoli, sì che c'è, perfetto con ambatta, 28 ancora come è stato, 90 a Cagliari, ecco l'errore, mamma mia, questo errore che veramente ti sei mangiato, 1, 12 e 23 su Palermo, non hai giocato il terno su tutto che è uscito su Milano, 1, 12, 23 Milano, e poi 1, 12, 20, 23, di nuovo Milano, perché qua avevi fatto la quaterna, hai fatto tutto su Palermo, tranne che giocare su tutte, quando vi sentite un terno da giocare, mi raccomando, giocatelo anche su tutte, un cavolo di euro ti permetteva di vincere anche te, guardate quanti errori fate, vi permetteva anche te come la signora l'altra sera, adesso mi ricordo chi era, e poteva vincere 430 euro, spuntateci sopra ragazzi, sono soldi, altri esiti con ambatta contata, altri esiti c'è una valangata ragazzi, 12, 24, 90 Milano, 12, 24, il 12 e 23 ambetto, e poi 90 a Cagliari, 90 a Cagliari, insomma il 12, 22, 29 Firenze, che fra l'altro c'è un 22, 29 Firenze, come ambo in terzina, bellissimo questo eh, questo è di Inna se non sbaglio, bravissima, insomma ce n'è tantissimi ragazzi, poi altri esiti, queste sono le vostre ambatte contate, il cos'è uscito, il 19, 90 su Cagliari, su tutte, va bene, perciò su tutte, va bene, mi fermo qua ragazzi, c'è una magolata, passiamo, quindi arriviamo subito al dunque, passiamo quindi a quello che potrebbe succedere domani sera, per quanto riguarda il 90 o se prende una pausa, vedremo come andrà a finire, fatto sta che il 90 di Roma del 5 gennaio va Milano e Napoli, Napoli aveva dato, vi ricordate, quindi rimane Milano di nuovo, poi attenzione a questo schema, guardate qua, c'è il Venezia che va su Palermo e Genova, avevo scelto Genova come, come frequenza, poi andiamo avanti, il Roma di nuovo del 10 gennaio ripropone Milano-Napoli, Napoli già dato, guardate che Milano è veramente fortissima, poi guardate qua, il Firenze di nuovo Venezia e Bari, Venezia già dato, rimane Bari, guardate come si conforma tutto eh, ecco qui che vi voglio, ecco qui che vi voglio, Palermo somma totale 90, attenzione alla somma totale 90, perché non solo è a Palermo, ma può riflettersi a Genova al 90 e quindi qua abbiamo un'altra azione importantissima, ma quello che ho notato questa sera eh, e che mi ha fatto ripensare nel cambiare la ruota è stato proprio questo, guardate qua, somma fra le ruote gemelle, qua si parla di cadenza simmetrica, anzi no, somma 90, normale, che cadenza simmetrica, mi sono sbagliato, scusate, 26,64, somma 90 nelle due ruote gemelle, quando c'è una somma 90, specialmente nelle ruote gemelle, sì, è come se si chiamano, e quindi attenzione, Palermo prende forza anche lei, perché c'è il Genova, che ieri sera gli dà il contributo del 26 insieme a 64, somma 90, e quindi attenzione, la ruota integrata sarà Palermo, questa sera Palermo, Palermo, voglio salutare tutti gli amici di Palermo, siete tantissimi, allora volevo ricordare a tutti che mio padre di Castelvetrano, mia madre di Riesi, quindi sono siciliano anche io eh, oh, ma chi l'ha detto che non sono siciliano, allora e poi abbiamo anche origini spagnole, dalla bassa Spagna, va bene? La Granada, Granada, ok? Quindi spagnolo e siciliano sono di origine io, quindi, oh, adesso lo sapete, quindi mia madre è Caltanissetta, mio padre è Castelvetrano. E allora, classifica integrale del 90, Bari-Genova ha integrato la ruota di Palermo, perché le convergenze ci sono e quella bella somma 90 mi ha fatto cambiare tutto il parere, quindi Genova-Palermo, due somme 90, una somma 90 per Risotto, perché questa qui, questa Genova-Palermo e poi, combinazione dalle mie parti e combinazione da Palermo, estreme, dalle due estremità, da nord a sud. E poi questa che è bellissima, questa, questa che è bellissima. Palermo, somma totale e poi l'ambata contatta che ci va diretta, diretta a quello del Venezia del 7 gennaio, tutti i quadri recentissimi per avere un Genova-Palermo davvero bellissimi, quindi 90 bellissimo particolare. Attenzione a quello che vi ho detto, la somma totale fa 2,70 con la nuova tecnica, chi è furbo capisca cosa intendo dire. E quindi la figura 9 insieme al 90 sarà Doc. Attenzione a questo 27,72 Genova-Palermo, perché sono fortissimi. C'è il 72 che da Genova, scusate, da Venezia parte va Genova-Palermo. Quindi attenzione alla sua figura 9 per Genova-Palermo. Questa è una bellissima condizione, perché c'è la somma totale, ma questo che mi ha fatto veramente cambiare parere è proprio stato la somma fra le due ruote. Poi questo ultimo 90 ritorna Torino e Cagliari. Cagliari ha già dato, Torino ha già dato, questa è molto più tardiva Cagliari. E poi una cosa che mi stavo dimenticando di farvi vedere, perché ho scelto anche Genova-Palermo, perché ve lo faccio vedere subito. Guardate qua, dobbiamo andare indietro per vedere sempre tutto. Primo 9 lì e poi l'altro 9 è qui. E allora, gli ultimi di dicembre, i primi di gennaio, questo 9, guardate dove va? Genova-Palermo, o 9, o 90. Genova-Palermo, o 9, o 90. O 9, o 90. Chi capisce? O 9, o 90. E quindi somma totale c'è, la somma fra Genova-Palermo, fra l'estremo del nord e l'estremo del sud. E poi la somma totale, l'ambata contata, fa sì che Genova-Palermo diverranno due ruote pazzesche. Posizioni per il Palermo, andiamo a vederle subito. Classifica integrale, la decima estrazione, la decima. Classifica integrale, il 90. Seconda posizione, la più forte, in parte la quinta. Seconda posizione, in parte la quinta. Seconda posizione, in parte la quinta, la più forte, la seconda, mi raccomando. Bari, prima posizione, la più forte, in parte la quinta, poi come strato semplice. Tutte queste quattro ruote hanno come strato semplice. Mi raccomando, chi vuol giocare solo l'ambata, non dimentiché l'estrato semplice. Qui avete un altro riferimento bomba, perché vedremo se per la decima volta la classifica integrale verrà rispettata ancora una volta. Vedremo se poi il 90 uscirà dopo tutti questi 90 consecutivi. Ultimo aspetto importante, avete visto che i numeri si ripetono e quindi non è detto che domani sera possa uscire 28.82, che io li ho già giocati.